Si è aperta ieri a Firenze l'edizione numero 90 di Bitti Immagine Uomo, la più importante e qualificata manifestazione internazionale di moda maschile, che chiuderà i battenti venerdì 17 giugno. Si attendono oltre 30.000 visitatori a quella che ormai viene definita la settimana della moda italiana, settimana che è iniziata a Firenze e terminerà con le sfilate di Milano. 1.223 marchi della più selezionata industria di abbigliamento uomo sono a Firenze a presentare le collezioni per l'estate 2017, di queste 540, il 44% provenienti dall'estero. L'uomo che indossa abiti made in Italy è considerato il più elegante e a Pitti si può scoprire il futuro dell'abito maschile e degli accessori. Classico contemporaneo, sportswear, ma anche l'artigianalità, il lusso, il nuovo formale, il guardaroba contemporaneo e lo stile metropolitano. Pitti Lucky Numbers è lo slogan della manifestazione. I numeri fortunati di Pitti sono anche quelli di una moda maschile italiana che ha chiuso il 2015 con circa 8,9 miliardi di euro di fatturato, con l'export che continua a crescere, anche se meno del previsto, e di consumi interni che sono stazionari. Sono previsti diversi eventi esterni nei giorni del Pitti, eventi che vedranno la partecipazione di nomi di altissimo livello della moda italiana ed internazionale. Saranno a Firenze Carl Lagerfeld, direttore creativo di Chanel e Fendi. Raph Simons, creativo prima di Gisander e poi di Dior, che ad ottobre scorso ha lasciato ed ha scelto proprio Firenze per lanciare a livello internazionale la collezione estiva 2017 del suo nuovo brand. O Fausto Puglisi, uno dei più apprezzati designer emergenti. Fausto Puglisi che veste Madonna, Lady Gaga e lancia a Firenze un'anteprima internazionale di moda, uomo e donna. Anche la nostra emittente racconterà Pitti Immagine Uomo 90, con uno speciale in due puntate che andrà in onda nei prossimi giorni. Grazie. Grazie. Grazie.